Senza scorte, senza autoblindata, eppure Rosario Livatino era uno dei magistrati di punta del Tribunale di Agrigento, uno dei più esposti per le sue inchieste antimafia. Fu lui, assieme a Salvatore Cardinale e Roberto Saieva, a distituire il primo grande processo alla mafia di Agrigento, svoltosi nella palestra di Villa Sete e conclusosi con diverse condanne all'ergastolo. Dall'agosto 89 era stato assegnato alla sezione misure di prevenzione contro la criminalità. Come tutti i giorni, anche quella calda mattina, all'inizio d'autunno 1990, Rosario Livatino era a bordo della sua auto, una vecchia Ford Fiesta a colore amaranto. Percorre la statale 640 per raggiungere il Tribunale dalla sua canica T. Nei pressi di Contrada Casena, poco prima di Agrigento, viene affiancato da un'auto e da una moto. L'auto di Livatino è speronata, partono le prime raffiche di mitra. Livatino è ferito a una spalla e fuggia a piedi, giù nella scarpata. Lo inseguo un killer, Gaetano Puzzangaro, di Palma di Montechiaro, conosciuto come Amosca. Un inseguimento tragico, drammatico. Puzzangaro spara quattro colpi di grazia sul volto del magistrato, che implorando gli chiede, che cosa ho fatto? Alle fassi dell'agguato assiste casualmente anche un rappresentante di commercio del Nord, Pietro Evano Nava, che dal cellulare della sua auto chiama il 113. Ed è grazie alla sua testimonianza che gli inquirenti risalgono al commando. Subito vengono arrestati Domenico Pace, Paolo Amico, Palmesi, fuggiti poche ore dopo l'agguato in Germania. E ancora Giovanni Avarello di Canicattì, i Palmesi, Giuseppe Croce e Benvenuto e Gaetano Puzzangaro. Mandanti del delitto sono Salvatore Calafato di Palma, Salvatore Parle e Giuseppe Montanti di Canicattì, che obbedirono ad un ordine impartito dal carcere di San Vito da Antonio Gallea. Zio di Avarello è capo della stiglia di Canicattì. Accanto al corpo di Livatino viene rinvenuta un'agenda in cui spicca la sigla STD, una sigla che per me si aveva fatto impazzire gli inquirenti. Alla fine fu il docente universitario Giovanni Tranchina a risolvere il giallo. Quella sigla sta per Subtutela Dei sotto la tutela di Dio e si trova in tutte le agende di Livatino. Sono le invocazioni con le quali in età medievale si invocava la divina assistenza nell'adempimento di certi uffici pubblici. Papa Giovanni Paolo II lo definì martire della giustizia e indirettamente della fede. Il giudice era infatti credente e praticante. Ogni mattina si raccoglieva in preghiera, come si legge nelle sue stesse agende private. Il 21 settembre, stessa data dell'esecuzione del 2011, si è dato avvio al processo di canonizzazione. Adesso, a sette anni dall'apertura del processo diocesano, è stato dato l'annuncio della data in cui si terrà l'ultima sessione del processo diocesano. Il prossimo 3 ottobre, giorno in cui tutti gli atti originali, 4.000 pagine di testimonianza, 45 testimoni, tra cui anche uno dei suoi killer e i racconti dei suoi presunti miracoli verranno trasmessi alla congregazione delle cause dei Santi che è sede a Roma, dove verrà studiata e analizzata la vita del giudice. Rosario Livatino, apparendo da morto, avrebbe guarito alcune donne dalla leucemia. Rosario Livatino, apparendo da morto, oils Senzioso. Asci Romano telegona, tasso coste di corre wiedza. bru calmini Grazie a tutti